Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare quindi non è assolutamente un video cosa ne penso perché lo farò e cercherò di farlo ovviamente della versione finale del gioco Vi voglio presentare Tetraarchia, nuovo gioco della Giochi X che io ringrazio di cuore per avermi fornito un prototipo Perché quello che vedete qui davanti non c'è scatola di niente, è soltanto la versione prototipo da provare anche per fare dei test e per farceli video per la stampa Ed è il loro nuovo gioco in Giochi Starter che è il loro Crowfunding, il loro Kickstarter interno Progetto che potete finanziare direttamente ora quando state vedendo questo video ed è un prodotto veramente molto interessante Ripeto vi faccio giusto una veloce presentazione anche perché è impossibile fare unboxing e darvi le mie impressioni finali di un gioco che per ora è soltanto un prototipo Comunque ve ne parlo a breve dopo la sigla Tetraarchia, gioco in Crowfunding, al momento in Crowfunding, Giochi Starter di Giochi X è un titolo strategico cooperativo che ci vede negli ultimi anni, negli ultimi decenni dell'impero romano durante le invasioni barbariche Al tempo l'imperatore in carica, uno dei più famosi o comunque quello che viene citato in questo gioco era l'imperatore Diocleziano Che trovandosi fronteggiato dalle urde di barbari che arrivavano un po' a circondare da ogni parte dell'impero, da nord a sud, da occidente a oriente E non ce la faceva ovviamente perché l'impero romano era al collasso, non era più quello ai tempi di Giulio Cesare, di Ottaviano Augusto e cose del genere Si trovò comunque costretto anche in mancanza di legioni e cose varie a scindere il suo potere O per meglio dire non tanto scindere, elevare altri tre suoi fidati a rango di imperatore Quindi in quel periodo storico Diocleziano, un po' imperatore, erano un po' gli dei, il dio impersonificato nell'impero romano come in altre culture classiche Si vede costretto a fare una tattica del genere che poi si dimostrò comunque vincente E di eleggere altri tre imperatori che insieme con lui avrebbero fatto questo consiglio, questo consorzio di quattro imperatori Se mi ricorda un po' i primi triunvirati per farvi un esempio E di andare a fronteggiare l'avanzata dei barbari da tutte le parti del mondo conosciuto praticamente E il gioco è un gioco cooperativo dove che giochiate in uno o che giochiate in quattro comunque l'imperatore li dovete muovere tutti Quindi se giocate in due fate due e due, se giocate magari se fate una partita in solo la potete fare tranquillamente però li dovrete muovere tutti e quattro E' un gioco completamente cooperativo e ora tanto poi ve lo faccio vedere nelle vicinanze Richiama appunto all'attenzione e alla mobilità strategica sul campo Ricorda un po' anche come gioco un Total War, mi fa venire in mente parlando anche di cose videoludiche O anche un Grand Strategy della Paradox, quindi un titolo che mi ha comunque coinvolto da subito Perché richiede una attenzione ed una strategia a livello proprio logistico minuziosa Perché ovviamente se i barbari dovessero sfondare la vostra linea di difesa ed arrivare fino a Roma la partita sarà persa Vi faccio vedere, vi do giusto una veloce idea di un po' come funziona Abbiamo la mappa dell'impero romano diviso in province E ora vi faccio vedere un pochino dalle immagini del tabellino di giochi dei componenti Che ricordo essere soltanto unicamente un prototipo per la stampa, non è la versione finale, non c'è manco la scatola Il regolamento era in pdf in inglese quindi è tutta quanta una cosa a livello di giochi starter appunto di crowdfunding Abbiamo la mappa dell'impero divisa in province e ogni provincia ha un colore che poi alla fin fine sono I token dei vari imperatori che vanno a rappresentare gli imperatori, le zone controllate dagli eserciti e delle legioni degli imperatori E le navi, le flotte perché ovviamente ci si può spostare anche via mare Alcune zone sono connesse via mare quindi da una zona nello stesso mare ovviamente Non è che potete collegarvi a due mari differenti Però in un turno avete la possibilità di fare variazioni che sono date da dei punti che sono sei Che potete spendere per fare variazioni Vi potete muovere da una casella a un'altra, anche da una provincia all'altra confinante Con la regola che se la riga non è interrotta di collegamento fra una e un'altra dovete spendere uno Se la riga è interrotta dovete spendere due Se su quella provincia ci sono dei nemici o già c'è un'altra truppa Magari anche vostra o magari anche di un alleato che è già ferma lì Non vi ci potete fermare sopra ma dovete passare oltre Quindi comunque non potete fare unicamente spendere un punto per fare un movimento Ma ne dovete spendere due per passare oltre C'è la possibilità di combattere, che ora poi ve lo spiego velocemente, un esercito barbaro avversario E c'è la possibilità di anche andare a ridurre le rivolte che si vanno a creare le sacche di rivolta Dentro appunto queste capitali, dentro queste città delle varie province di questo impero romano Frammentato fra quattro imperatori, come vi ho detto principalmente E poi dopo la fase di giocatori c'è una fase dei barbari dove a livello di gestione di logistica Inizialmente si vanno a tirare i dadi per vedere, a parte l'uno che si ritira sempre Da 5 a 6 sono tutte quante numerate le province da dove loro possono sponare Quindi in quella provincia, ovviamente non possono sponare nel centro dell'impero Sempre comunque nell'orlo esterno Però sponeranno in quei punti e cercheranno di avanzare verso Roma E su delle caselle ci sono delle frecce nere che stanno a far vedere appunto dove i token neri I cerchietti neri di legno che rappresentano le truppe del nemico dei barbari Sciameranno verso, sempre in direzione di Roma E voi dovrete bloccarle Quando andate a fare una battaglia dovete fare un conto che è carina Mi garba come idea Andate a combattere, che ne so, con il vostro imperatore e la vostra armata contro l'armata di barbari Dovete contare tutte le caselle vostre alleate che vi sono in una colonna Quindi praticamente tirate da dove siete voi una colonna Una strada, una pista e tutto quello collegato dietro di voi Vi dà un bonus al combattimento, al tiro di dado e vi dà anche un bonus Quindi che ne so, se avete, se il vostro token è quello del vostro imperatore e quello blu Avete un cerchietto di legno in una provincia accanto, in una zona accanto Devono essere ovviamente collegate Poi un'altra ancora, un'altra ancora Come fosse una coda andate a contare a tutti quanti che vi danno un bonus Vi danno manforte In più, se nelle vicinanze c'è l'imperatore O l'esercito di un altro giocatore Che è un imperatore come voi Vi darà un moltiplicatore Che un moltiplicatore vi dovrebbe dare per 2, per 3, per 4 Alla fine si va a fare questo rapido conteggio E chi ha vinto distrugge l'esercito avversario O comunque prende la provincia L'idea principale senza starvi a fare cose ovviamente esagerate è quella di muovere eserciti di terra Fino a porte e zone di mare per poi prendere una rotta veloce con le imbarcazioni E andare a fronteggiare l'esercito dei barbari che stanno sciamando verso Roma Che vi ricordo non era un clan Erano più clan e tribù che si erano uniti per buttare e tirare giù l'impero romano Distruggerlo completamente che già di per sé era particolarmente frammentato Scopo del gioco è non farli arrivare alla città di Roma Se loro dovessero raggiungere la capitale dell'impero romano La partita sarà assolutamente persa Basta metterci una pedina nel mezzo e la partita è persa È un gioco cooperativo e dovete cooperare per salvare l'impero romano Non vi do un voto né una valutazione finale Vi posso dare una piccola impressione per aver provato quello che vedete qui davanti Che è un prototipo Il gioco c'è, il gioco è immediato Le regole sono semplici perché ho visto giochi magari a volte anche di loro della gioca X Un pochino più complicati Tipo di vulgari eloquenza Ma sono giochi non complicati che richiedono forse più attenzione Qui il regolamento sono 20 pagine ma di cui veramente 7 Che non sarebbero nemmeno poche di regole vere e proprie Ma perché ci sono delle immagini così grosse in mezzo alle pagine Quindi si potrebbero ridurre a 3 o 4 È veramente veloce È una specie di risico riuscendo a muovere nel punto giusto E ricorda anche un po' la dama perché poi alla fin fine si va a cercare di prendere Di mangiare e di bloccare e di liberare una provincia E soprattutto di non far avanzare le truppe verso il centro della mappa Centro del mondo che poi è la città di Roma Il gioco è veramente veloce È un gioco immediato È un gioco che ci insegna qualcosa Ci rimanda a un tempo, un periodo storico bellissimo E un po' meno sicuramente per i romani dell'epoca Ed è un gioco veramente interessante Primo link in descrizione Se volete fare la campagna crowdfunding su Giochi Starter Lo trovate già da ora e dovrebbe durare fino al 20 Quindi dateci un'occhiata Perché è molto interessante come gioco E poi anche non è che costi più di tanto Quindi comunque è una spesa abbordabile da tutti quanti Per gli amanti di giochi storici E dell'epoca di Roma Per quanto periodo è sicuramente più avanzato È un gioco secondo me assolutamente perfetto Fatemi sapere cosa ne pensate Ciao ragazzi, alla prossima